Musica Quest'anno abbiamo fatto, credo, un grande salto di qualità aggregando quasi, cioè no, tutti i comuni appartenenti al territorio di Campi Fiori, compresi quelli che non avevano partecipato nell'edizione precedente. Il nostro obiettivo è sempre quello di valorizzare questo frutto del territorio che in tempo era fonte di reddito per questi territori, ma oggi non lo è più. Noi stiamo cercando di rivalutare questo frutto di tradizione arrivando non solo al recupero della vendita e della parte economica del fresco, ma anche dei derivanti. Abbiamo avuto il riconoscimento nazionale dell'elento dei prodotti di tradizione sui proposti della regione Campania e l'uscita anche sulla gazzetta ufficiale che il mandarino dei Campi Segheri e il mandarinetto sono prodotti di tradizione. Il nostro sforzo è quello quindi di recuperare questi agrumenti residui che ci stanno nel territorio, che in parte sono stati trasformati in altre coltivazioni ed in parte sono stati utilizzati per costruzione sia edilizie normali con licenza ed altri invece anche agrumenti. Per cui questi campi residui, questi agrumenti residui si deve cercare di raccoglierli, di dare forza affinché possano essere poi nuovo, diciamo i prodotti possano essere venduti, diciamo attraverso questa associazione andremo in futuro a costituire. La festa del mandarino, oltre al piacere di vederlo crescere, è in effetti un momento saliente della nostra associazione, è l'immagine del mito. Perché? Perché in effetti noi puntiamo a quella che è la rivalutazione dei prodotti agroalimentari del territorio, che però sono ben seri e non lo sanno neanche i cittadini di quest'area della nostra campagna. Ci abbiamo il, oltre al mandarino naturalmente, che è il prodotto di punta un po' emblematico del territorio, ma ci abbiamo famosa, per lo meno forse per me, ma non per chi ci abita, oppure per alcuni che ci abitano le famose fate di miniscola, ci abbiamo i carciofi, che sono quelli dei campi fratelli, terra, terra sono anche i carciofi di procida, ci abbiamo il limone di procida, ci abbiamo il datterino, quel piccolo e saporitissimo pomodorino, che però prende il nome di cannellino, cannellino fra greco e così via. Quindi è un peccato vedere gli orti disseminati di questi prodotti che non vengono colti, tranne quelli che sono più facilmente acquisibili e quindi li vogliamo far vivere. Ma il nostro emblema per oggi è il mandarino. Il mandarino è anche un momento che diventa poi un momento di aggregazione, di dialogo con quelle che sono le forze del territorio, cioè gli agricoltori, che sono un po' dretti in verità da smuovere e a far capire bene che tesoro hanno nelle mani, ma che non riescono a tesorizzare il conveniente reno. Questo è un po' la... e noi lottiamo per questo. Stiamo convogliando, e lo vedete nei nostri programmi, un po' le forze più vivaci e le scuole, devo dire, sono quelle che partecipano di più, danno le loro competenze. loro, per esempio, con la scuola di Pacoli abbiamo, e unendo anche le sinergie di altre realtà come quella del professor Dalisi, con loro faremo un basso rilievo che i ragazzi prepareranno sul design di Dalisi, dedicato ai campi freglie, dedicate alla terra, ai campi freglie e ai suoi prodotti. Una delle caratteristiche della campagna vesuliana, la campagna fregreia, insomma la campagna campana, è sempre stata questa forte biodiversità e questa forte capacità di avere dei prodotti di grande qualità. Naturalmente il problema del mandarino è il problema della ricocca vesuliana, è il problema delle arance di rossano, è il problema insomma un po' di tutti i frutti e gli ortaggi del sud, ossia per decenni sono state quelle che adesso si dice per usare un termine invece delle commodity, cioè erano merce che viaggiava verso il nord, verso il nord Italia, verso i mercati europei e ci si è poco preoccupati di raccontare la loro storia, di scrivere le loro proprietà perché si erano unici fornitori del mercato. Con il processo di globalizzazione che è arrivato da più di 20 anni, da più di 30 anni, ricordo per esempio il caso della nocciola di Avellino che era una cultura che si leggeva tutta sulla vendita degli Stati Uniti per il giorno del ringraziamento che fu dall'oggi al domani vessa fuori mercato dalla nocciola turca. È stata un'epopea di cui restano addirittura toponimi molto significativi in nomi di paesi, di strade, torre di rinocelle, rinocelle eccetera perché era una cultura che in pochissimi anni è sparita. Quindi per evitare questi rischi servono manifestazioni come questa e serve soprattutto dare valore a quello che si fa, fare agricoltura di precisione, fare agricoltura che spieghi perché è necessario comprare prodotti che siano tracciabili, dove certe leggi vietano l'uso della chimica, dei prodotti anche che siano etici, che non si basano sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo ma che danno la giusta retribuzione a chi lavora e soprattutto prodotti possibilmente anche che siano ecocompatibili con l'ambiente. Quindi è necessario andare in questa direzione. La battaglia dei campi flagrei è una battaglia eroica perché noi sappiamo che purtroppo dopo il bradicismo c'è stata una colata di cemento che purtroppo è brutto perché non è che uno sta contro la costruzione in linea di principio. Però immagino che negli anni 60 e 70 lo sventramento di Napoli avrebbe lasciato un'altra eredità invece di questi bellissimi valazzi. Quindi voglio dire che purtroppo c'è da ribadire una vocazione rurale che fanno i produttori di vino, che sta facendo anche Slow Food, Campi Precrei che sta sempre molto attiva su queste cose e quindi io il consiglio che mi permetto di dare al livello mediatico è quello di insistere su un solo prodotto. Ossia è vero che ci stanno tanti altri prodotti che prima sono stati citati. Però ogni zona alla fine diventa famosa per qualche cosa che poi magari ci sta anche dell'altro e bene. Per cui siccome il mandarino è un oggetto che soprattutto nella tradizione napoletana vuol dire Natale, vuol dire casa, è un agrume diffuso e molto polietrico perché si può usare sia per il salato che per il dolce. Ecco il mio consiglio è insistere su questo come testa da riete mediatica. Per farlo diventare importante serve che crei reddito. Per creare reddito bisogna dargli valore. Per dargli valore bisogna agganciarsi a chi è famoso a livello gastronomico, alle scuole, allo stellato che avete in zona e alle altre realtà che ci stanno. Cioè deve diventare una sorta di medaglia che ciascuno deve tenere, una caratterizzazione che ciascuno deve tenere per dimostrare di essere un buon ristoratore e un buon hoste. Quindi bisogna spingere e lavorare e lavorare molto in questa direzione. La ricetta che abbiamo presentato è una rivisitazione di una ricetta che in genere facciamo al ristorante a lisci ripiene di ricotta di bufala che sono state aromatizzate con mandarino dei campi fregrei, limone, zenzero e servite con un chutney di mandarino e di cipolla aramata di montoro. C'è stato qua, è già stato qua, è già stato qua, è già stato qua, questo qua era quarto miglio. Wow! Quello miglio era quarto miglio, vero? Sì, quello di prima, sì. Adesso abbiamo... La fiscina. La fiscina. La fiscina. La fiscina. Però ho girato un po', sono stato in costiera parecchi anni, mi sono fatto un po' che ho salito. Finalmente siamo alla quinta edizione, siamo alla fine, all'epilogo di una lunga chermesse che è iniziata a Napoli a dicembre 2016 e per nove tappe ha seguito Ischia, ben tre comuni, quattro comuni di Ischia e quattro comuni qui sulla terraferma ai campi fregrei. è stato veramente un grande successo perché innanzitutto non ci aspettavamo che partecipassero tanti comuni e prima cosa, Ischia l'anno scorso era presente solamente con un comune, quest'anno invece se ne sono aggiunti altri tre e quindi evidentemente che il mandarino comincia a interessare, si sta svegliando anche lui rispetto a tanti altri prodotti. Una crema al cioccolato bianco e una crema al cioccolato al latte, cioccolato al latte un po' particolare che è un nuovo prodotto della Icana, si chiama lo Sbaiupus, questo è un cioccolato al latte molto intenso e ha una percentuale di cacao del 52%, molto forte come gusto. Abbiamo avuto un incremento di partecipazione da parte degli chef e dei ristoranti alla gara, infatti c'è stato quasi un 10% in più rispetto allo scorso anno. L'artista alla tale gastronomica è il latte, è il cioccolato o bianco? No, non è il latte, è il cioccolato bianco, è il latte. C'è un ottimo dolce al cioccolato. Essere qui oggi è prestigio perché si ritorna indietro nel tempo. Si valorizza questo mandarino autoctono di questa zona e quando diciamo che il successo della gastronomia oggi è nella storia, il mandarino è un protagonista. In questa zona quasi si dimenticava, ma siamo fortunati, si sta ritornando al passato. Il ritorno al passato ci porterà molto in avanti. La giuria è composta da tutti e da persone autorevoli, ne sono il presidente forse per una forma solo di stima e di affetto, quindi voglio dire così, lasciamo solo la bravura agli altri cuochi che in questo momento si stanno mettendo in gioco. Perché è una manifestazione che sicuramente merita di grande valore culturale e di grande impatto per la sostenibilità e la valorizzazione del territorio. Infatti, parlare di mandarino oggi significa sicuramente parlare di un prodotto della nostra terra. Purtroppo è un prodotto che negli ultimi anni è stato molto, diciamo, mortificato fino ad arrivare alla estirpazione di piante e questo ci procura a noi flegrei un grande dolore perché sappiamo il suo valore sia energetico sia nutrizionale e sia gustativo. Quindi ben vengano manifestazioni come queste che aiutano sicuramente a valorizzare uno dei nostri prodotti. Io e la mia famiglia siamo molto felici di ospitare questa manifestazione perché siamo molto sensibili soprattutto alla valorizzazione e recupero dei prodotti territoriali, cosa che avviene purtroppo negli ultimi anni sempre in maniera più desueta, nel senso che riteniamo che, così come è avvenuto anche per la melanurca, che è un prodotto, pochi lo sanno, è un prodotto che nasce nei campi freghei intorno all'anno zero, anche il mandarino a radici profondamente putiolane. Quindi da putiolano doc, che ritengo di essere, sono fiero di partecipare in maniera attiva a questa manifestazione di recupero e di valorizzazione di un prodotto che ormai sta quasi scomparendo. Grazie a tutti. 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 Grazie. siamo postati